Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tir finisce fuoristrada tra Fenile e Carignano Ciclista investito da un'auto in via Roma Per eliminare la presenza dei topi lungo il canale Albani serve anche il buonsenso dei cittadini Parola di Assessore Bartocetti colpito da un malore, ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Fanno Tubature dell'acqua sempre più obsolete e molte famiglie restano a secco Il sindaco annuncia mezzo milione di euro per riqualificare il porto Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Sono in molti a denunciare la presenza dei topi lungo il canale Albani E soprattutto nei passeggi, anche vicino ai giochi Dove genitori e bambini passano alcune ore Il comune fa la sua parte, però critica anche chi invece le regole non le rispetta Sentiamo quali Non solo anatri lungo le rive del canale Albani, ma anche topi che mettono in apprensione le mamme Specialmente in queste prime giornate di bella stagione, quando portano i loro figli al fresco sotto gli alberi dei passeggi di Fanno Non è un bello spettacolo vedere in questa osi di verde in città Che seppure sottoposta periodicamente a derattizzazione e controlli Ha bisogno sempre più di attenzioni e cure da parte, soprattutto, delle persone che la frequentano In queste settimane è stata fatta la pulizia, oltre allo sfalcio, non solo dei giardini Mazzini, ma anche delle sponde del canale Albani È stata fatta l'opera in entrambi i casi di disinfestazione contro le zanzare Quindi intervenendo direttamente sui microfocolai presenti nell'aria Con elementi di lotta biologica, quindi ecocompatibili, di carattere larvicida come intervento E in più abbiamo fatto gli interventi di derattizzazione Sia sulle sponde del canale Albani, sia nei via Limazzini E abbiamo programmato da qui a settembre 10 interventi Per cui ogni due settimane noi interverremo nell'aria dei passeggi Serve una bonifica dunque, ma anche un po' di buonsenso civico e collaborazione Raddoppiate le trappole dopo le segnalazioni e gli interventi degli scorsi mesi Anche se tutti gli sforzi sono poi vani Se si continua a dare scarti di cibo alle oche nel fiume Trasformando il canale in una pattumiera Qui il problema non è qualche pezzo, qualche mollica lasciata nel canale Il problema è che qui vengono lasciati sostanzialmente chili di cibo ogni giorno Sia nell'aria dei viali Mazzini, sia gettati sulle sponde del canale E' chiaro che questo attira gli animali e rende molto più debole il risultato Che gli interventi di deretizzazione possono produrre Anche se ripetuti ciclicamente con una frequenza che peraltro stiamo aumentando La cronaca, il nucleo operativo dei carabinieri di Fano coordinato dal comandante Alfonso Falcucci Ha arrestato una 23enne fanese per spaccio di sostanze stupefacenti I militari erano da tempo sulle sue tracce in quanto fidanzata con uno spacciatore tunisino Con il quale collaborava attivamente Durante un appostamento i carabinieri hanno seguito la ragazza nella zona del porto Dove hanno notato movimenti sospetti con un cliente Per poi ritornare nella zona dei giardinetti adiacenti alla scuola Corridoni E' lì che l'hanno fermata e perquisita rinvenendo tre dosi di cocaina La donna è stata arrestata in flagranza di reato per spaccio Ed ora si trova agli arresti domiciliari E quella degli abitanti di via Boccioni sembra una storia infinita Eravamo stati da loro qualche settimana fa per una rottura E stamattina, ahimè, nuovamente senza acqua e nuovamente con le tubature rotte Vediamo Più di 15 interventi dell'ASET in poco più di un anno Spesso nello stesso punto per la rottura delle tubature dell'acqua Che lasciano gli abitanti di alcune zone di Fano a bocca asciutta per intere mattinate Oltre a causare numerosi disagi come garage e semi interrati allagati L'ultimo episodio oggi in via Boccioni Adesso nel giro di una settimana rieccoci Ci stiamo abituando purtroppo a non avere l'acqua la mattina Stamattina ci siamo alzati e abbiamo visto che aveva piovuto durante la notte E quindi l'asfalto è tutto bagnato e avevamo pensato fosse l'acqua piovana Poi abbiamo visto che era troppa l'acqua sulla strada Marrone, strana Abbiamo guardato e alle 8 e mezzo abbiamo richiamato l'ASET E i disagi non finiscono a lavori ultimati Infatti dopo il ripristino del servizio è impossibile usare l'acqua Sia per l'odore sgradevole che per il colore scuro Segni probabilmente di uno spurgo delle condutture eseguito male Io apro il rubinetto, viene l'acqua marrone, non posso prenderla per cucinare Non posso mandare la lavatrice, la lavastoviglie E poi mi si rovinano tutti gli elettrodomestici Quando riapro l'acqua di rubinetti viene fuori a scatti, marrone per un bel pezzo Forse sarà che sono la prima casa dopo la tubatura, io non lo so Però io risento molto del ripristino dell'acqua Quando finiscono i lavori non è che finisce tutto Per me comincia mezza giornata che non uso l'acqua lo stesso È marrone E il porto di Fano verrà riqualificato Il comune annuncia un intervento sostanzioso di oltre mezzo milione di euro Vediamo quali sono i particolari nel prossimo servizio 509 mila euro da investire nell'area portuale È la cifra che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere Dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca Il comune ha partecipato a questo bando regionale per la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree portuali Ottenendo questo importante finanziamento Grazie al quale sarà possibile effettuare degli interventi di ammodernamento Manutenzione e messa in sicurezza dell'intera area Gli interventi riguardano l'area portuale sono destinati all'asfalto della strada del porto Alla messa in sicurezza delle banchine anche per la sicurezza dei lavoratori Poi ci sono altre tematiche di sicurezza, istintori e finalmente una messa a norma E poi c'erano delle cose molto specifiche sulla sala delle aste, sulle informatizzazioni anche a livello sostenibile energetico E una macchina del ghiaccio Mi piace sottolineare che è stato un progetto che ha coinvolto tutti gli operatori del settore Assieme all'assessore Paolini e al sindaco abbiamo coordinato un tavolo Tutte le forze in campo a valutare il progetto giusto da presentare in regione Ed è stato un bel lavoro di squadra Ci ha aiutato anche la Capitaneria che ci ha fornito molti dati tecnici Era un bando molto complesso E quindi è stato un buon lavoro di squadra 509 mila euro per la città di Fano sono veramente importanti Tiziana e Riccardo sono due musicisti fanesi che hanno realizzato un cd per sensibilizzare Sulla violenza di genere, quella specificatamente sulle donne Sentiamo di che cosa si tratta Si chiama Messaggi, il nuovo cd dei Ciuca Duo acustico composto da Tiziana Stefanelli e Riccardo Paci Che pone al centro i diritti delle donne nella lotta alle forme di violenza La scelta del titolo nasce dalla necessità di far capire quanto l'uso delle parole sia potente E quanto altrettanto importante sia il bisogno di utilizzarle nella maniera corretta Porteremo nel videoclip un messaggio estremamente importante per le donne oggetto di abuso Che ancora non hanno trovato il coraggio di fare il grande passo per tutelare la loro vita E cioè che la violenza va denunciata Non solo rivolgersi ai centri e alle associazioni in cui trovare aiuto e sostegno Ma sapere, far conoscere che oltre all'ospedale in cui ci si può rivolgere durante le 24 ore Ci sono anche le istituzioni e quindi il commissariato della Polizia di Stato E il comando dei carabinieri 24 ore aperte e quindi è un invito a queste donne All'interno del CD tre brani tra i quali Io meno Te Che racconta un momento di vita quotidiana all'interno delle mura domestiche Parlando del rapporto disturbato che intercorre fra la coppia Quando anche i momenti più quotidiani diventano operazioni pericolose In presenza di un uomo violento pronto a scattare per qualsiasi motivo e arrivare alle mani Il brano verrà accompagnato da un videoclip che si girerà a Fano dal 3 all'8 giugno E verrà caricato nel web grazie alla piattaforma Vevo C'è poi il volo degli angeli, pezzo che parla della tutela della maternità Mentre il terzo, il canto che non so, è rivolto alla tutela dei diritti umani in generale Il ricavato del CD sarà devoluto ad un'associazione nazionale Che tutela le donne da violenze e abusi Il video verrà registrato nelle più sensibili location storiche di Fano E vedrà anche la partecipazione di diverse personalità di spicco Che hanno sostenuto e collaborato a questo video Per esempio ecco lo stilista Mario Orfei Che è molto molto sensibile alla violenza di genere E che ci ha sostenuto donandoci gli abiti per le registrazioni del videoclip E i recenti tragici episodi legati al mondo del ciclismo Come quella del campione Scarponi E poi recentemente, ahimè, del campione di motociclismo e di superbike Nicky Aiden hanno riportato l'attenzione sui pericoli e i rischi Di quanti praticano attività agonistica e ammatoriale in bicicletta E' accaduto anche questa mattina a Fano, in Via Roma Sentiamo che cosa è successo Un altro incidente stamattina intorno alle 12.30 in Via Roma All'altezza del distributore esso Ha coinvolto una bici e un'automobile Il ciclista, 46enne, è stato travolto dalla scenic guidata da un 37enne Che ha dichiarato di non averlo visto In quanto impallato nella visuale Da un camion che si era fermato proprio per consentire alla Renault di svoltare Creando un barco nel traffico L'impatto è stato violentissimo E il ciclista ha sfondato il parabrezza dell'auto Sul posto subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale E il personale del 118 Che hanno trasportato l'uomo, un pasticcere fanese In ospedale in codice giallo E sottoposto ad accertamenti Da una prima analisi Il ciclista sembra aver riportato una contusione al torace Con forti dolori alla schiena Rimaniamo sugli avvenimenti della mattinata Perché un tir è finito fuori strada Nella strada che va da Fenile verso Carignano Nel Pesarese Il conducente è il leso Guardate le immagini Un grosso tir è uscito dalla careggiata questa mattina Intorno alle 10.30 Lungo la strada che da Fenile di Fano Porta a Carignano L'autista, un giovane del posto Ha perso il controllo del proprio mezzo A causa di una ruota di escolta Che si è staccata da sotto il camion E finendo sull'asfalto Inutile quindi il tentativo di accostare Al lato della carreggiata La ruota infatti ha intralciato la manovra Costringendo l'autista A finire con la motrice nel fosso Il leso il conducente Che ha raccontato tutto Alla polizia municipale di Fano Giunta sul posto Per il lieve di legge E anche quest'anno torna L'iniziativa legata Alla prevenzione dei tumori cutanei E quindi all'osservazione Che possiamo fare Per chi ne ha tanti Dei nei sul nostro corpo Naturalmente Dermatologi in prima linea Per un'azione di prevenzione E di sensibilizzazione Dottore allora Quanto è importante Nel suo campo La prevenzione La prevenzione Parlando di cute È fondamentale Abbiamo negli ultimi vent'anni Annotato un notevole aumento Di tumori della pelle Sia melanomi Che anche tumori epiteliali Circa Sono raddoppiata l'incidenza Questo anche per Un mal costume Di esagerare Con l'esposizione solare Quindi è importante La prevenzione Vedere tutto quello Che c'è sulla pelle Quello che cambia Eventualmente Decide di asportare Una prevenzione precoce Una diangi precoce E importante Per guarire Da questi tumori della pelle Anche quest'anno Avete in Serbo Una giornata Proprio su questa tematica Sì Anche quest'anno Abbiamo aderito Molto volentieri All'iniziativa del Rotary Di Fano Faremo un weekend L'ultimo weekend Di questo mese Di maggio Il 27 e il 28 maggio Nella sede dell'università Il Palazzo San Michele Visiteremo gratuitamente Tutte le persone Che si presenteranno L'anno scorso Abbiamo avuto Un notevole successo Abbiamo avuto 170 persone Abbiamo visto anche persone Che non erano prenotate Siamo riusciti a vederle tutti Quindi è stato Un discreto successo Spero di ripetere Anche quest'anno Questo successo Paura Per il presidente Provinciale Delle Proloco Damiano Bartocetti Che questa mattina È stato ricoverato Nel reparto Di terapia intensiva Dell'ospedale Santa Croce Di Fano Diretto dal dottor Frausini Per un malore Bartocetti Prima di recarsi Al lavoro In provincia Pesaro Ha accusato Un malore Ed è stato Accompagnato In ospedale Dalla moglie Dopo i primi Accertamenti I medici Hanno disposto Il suo ricovero Nell'unità Della medicina D'urgenza Dove si trova Tuttora ricoverato A lui E alla sua famiglia Tutta la redazione Di Fano TV Con in testa Il direttore Marco Ferri Augurano A Damiano Bartocetti Una pronta guarigione E noi lo salutiamo Caldamente Perché immagino Che sia In questo momento Davanti al teleschermo Nella sua stanza D'ospedale In bocca al lupo Per tutto Dopo di noi Prima di chiudere Il telegiornale In cucina Con lo chef E poi Una esilarante Puntata Di Guarda chi c'è Con anche A seguire Il pesce azzurro Show Con i ragazzi Del San Costanzo Show Io mi formo qui Per questa edizione Di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia Buon proseguimento Con i nostri programmi A domani